via ciao che si vede dal posto? buonasera, ti rivisto, ti rivisto io la posso aiutare, la faccio vedere, la faccio all'istante 7, che è come la sepoltura dell'alimentazione, 7 ma quando io la trago? matematica 6, spagnolo 6 tu che stai fatto? ma sei dovuto nella palestra 3, 2, 2 a scienze motorie sportive, 2 eh, capito? ma questo qua mi sento la conquista ma tu sei venuto qua per compigere qualcosa? eh, vedi quel certificato, non ci voleva andare e chi ce lo scrive qua io? e io ero impegnato la palestra a fare, capito? ma magari c'hai detto pure che te stai fatto la palestra eh, per forza, no, poi c'è lo certificato e che tagli la palestra ho messo Pietro Grillo c'è quello del mondo oddio, 2, ma ne rendi conto? c'è 2 qua eh, vabbè, ma uno che deve far fuggire professionista ma poi parlare il mio cibo l'ho cucinato ma poi c'è sto mettato qua basta la pivetta qua che vedi no, non ce la posso fare la pivetta piccola che fa e poi è scalato le ore, per scari i vuti e non più con la pivetta la pivetta picca ma la pivetta picca? ma mamma non hai detto il cammello? ma non hai detto il cammello? no, non hai detto no, non hai detto basta la pivetta qui ma c'è di acqua la pivetta la pivetta mettiamo sta pivetta la pivetta mettiamo sta pivetta basta che ti promuovono grazie